Sabrina Salerno presenta il calendario delle donne, ma dalla foto si vedono delle forme a dir poco esplosive. I follower la inondano di complimenti. C'è sempre un buon motivo per mostrarsi, soprattutto al sole, ora che sembra aver inizio la bella stagione. Una volta, per una foto al sole, si poteva finire anche su qualche calendario. Ed i calendari variopinti, giusto per usare un termine delicato. Calendari che finivano in qualche garage o in qualche autofficina. Insomma, si è capito bene di cosa si parla. Ora, invece, sembra essere tutto cambiato. Ma non tanto perché i calendari non vengono più apprezzati. Tutt'altro. Li si hanno a disposizione tutti i giorni. Altro che 12 mesi. Come? Basta aprire un profilo social di una showgirl e il materiale è servito. Lo stesso che mette in scena Sabrina Salerno. La cantante e, appunto, showgirl italiana è una macchina impicchiata senza freni. Lo si vede dai suoi innumerevoli scatti che ogni giorno, o quasi, posta all'interno del suo profilo social di Instagram. Un account seguito da ben 861 mila persone, sempre in continua crescita. E lei sa benissimo come accontentare i suoi follower, tra uno scatto o se e l'altro. Quando deve mostrare le sue forme si scatta un selfie sempre dall'altro. Sabrina Salerno è una bomba, pronta a esplodere da un momento all'altro. Posa per la pagina Instagram? Il calendario delle donne. Ma a farlo è direttamente lei. Nella foto la camicetta, corta e trasparente, sembra non poter mettere a freno le sue curve, esplosive più che mai. Accanto lo scatto anche un omaggio, se così possiamo chiamarlo, a tutte quelle che persone che vengono e vanno nella vita. Ma soprattutto a chi resta, nonostante tutto, sembra proprio il periodo delle, curve pericolose. Almeno all'interno del suo profilo Instagram. Appena riapre la sua piscina preferita, la Salerno ci si fionda immediatamente. Poi, lo scatto a bordo vasca, è obbligatorio, per lei e per tutti i suoi follower. Pronta per il tuffo. La Salerno ci si fionda immediatamente. Poi, lo scatto a bordo. 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 Poi, lo scatto a bordo.